Musica Bentornati a 7 giorni, una trasmissione che si occupa di approfondire i fatti più importanti della settimana e non possiamo porre la nostra attenzione su quello che è accaduto proprio a un cantiere Selunga di Firenze e non vorremmo parlarne, invece siamo costretti a parlarne di nuovo perché c'è stata una nuova tragedia sul lavoro che ha distrutto nuovamente vite umane e lo facciamo in compagnia di un ospite graditissimo, Fabio Seggiani, segretario della CGL Siena. Buonasera. Buonasera a voi e a tutti i telescoltatori. Siamo di nuovo qua a parlare di morti sul lavoro, abbiamo parlato tante volte proprio che lei è anche ospite qua alla nostra trasmissione e quello di ieri è stata una tragedia che ha tante cause. Sì, l'ennesima tragedia, poi diciamo queste così pesanti che vedono un numero di lavoratori coinvolti così pesante ovviamente lo schiaffo ce lo dà più grosso ma non ci dobbiamo dimenticare che il problema dei morti sul lavoro in questo paese è un problema giornaliero. Tre morti al giorno per 365 giorni sono lì a gridare vendetta e credo che siamo arrivati alla fine di un percorso che ad oggi si è fermato al cordoglio, al piangere le vittime e a dimenticarci il giorno prima, il giorno dopo quello che è successo il giorno prima. Credo, crediamo, come ci c'è, che il momento è assolutamente basta. Ecco, nel mentre sistemiamo il collegamento perché sentiamo un piccolo ritorno, ci sentiamo alcune testimonianze raccolte da Chiara Valentini subito dopo il crollo. Vediamo. Più o meno 10 alle 9, un gran boato, ballava tutto il pavimento, un boato. A cosa ha pensato? Lì per lì pensavo passasse un camion grosso perché a volte quando mi balla la pedana è quello e invece poi ho alzato gli occhi, c'era un polverone enorme e hanno cominciato, buongiorno, le urla. Ho sentito un grosso boato, gli ho detto, mamma mia, che è crollato. E di corso dalla cucina sono venuta sul davanti. E cosa ha visto? E ho visto tutto il gruppo dei dipendenti, tutti in superficie e poi in contemporanea due camion dei vigili del fuoco, due ambulanze. Un boato all'improvviso e basta. Ci siamo rigirati e non si capiva nulla. Poi niente di che, non sappiamo spiegare nulla. Ha sentito delle urla? Dopo sì, è chiaro. Dopo è successo Finimondo. Noi siamo cercati di mettere un po' in sicurezza con le transenne, dare una mano perché la gente poi si avvicina ed è pericoloso. E comunque il problema è di chi sta sotto. C'è delle pareti che sono venuti giù. Cosa ha pensato quando ha sentito quel boato? Ma lì per lì non hai tempo di pensare, dopo di iniziare a rendere conto. Ma lì per lì non hai idea di che cosa può essere successo. Mi sono affacciato alla finestra e da qua sul cantiere ho visto una nuvola di fumo bianco e delle travi fuori posto e quindi ho capito che era successo qualcosa. Ha capito subito che c'era stato un crollo nel cantiere? Sì, anche perché poi incominciavo a vedere animarsi tutti gli operai, si mettevano le mani in testa, correvano avanti e indietro e quindi... Fa ancora più male sentire chiaramente le voci, le testimonianze di chi ha visto con i suoi occhi quanto è successo a Firenze. Spesso però dietro a questo caso e come più volte anche lei ha detto, come ha detto anche il segretario della CGL Landini, c'è anche un sistema di subappalti che purtroppo non aiuta, anzi. Sì, purtroppo questa è una tragedia annunciata. Quando la nostra organizzazione ha fortemente criticato l'intervento sul codice degli appalti che il Ministro con una leggerezza, un'approssimazione davvero imbarazzante ha definito solamente come un atto per velocizzare le pratiche burocratiche. Noi abbiamo sempre detto, sburocratizzare non vuol dire deregolamentare. Bene, questa è la dimostrazione purtroppo ulteriore che si gioca sulle vite umane. La deregolamentazione, l'introdurre nel codice degli appalti i subappalti a cascata, questo vuol dire non avere più la minima gestione della catena degli appalti, della percentuale di lavori che sono affidati a aziende appaltate che spesso non operano in situazioni di illegalità o semi-illegalità, non applicano i contratti nazionali che dovrebbero applicare rispetto ai lavori che si vanno a fare. Noi troviamo all'interno dei cantieri dili lavoratori che applicano contratti diversi da quello edile, che non si iscrivono alle casse dili, non partecipano alla bilateralità, non hanno un sistema di controllo e di assistenza anche sulla sicurezza e sono fuori da qualsiasi controllo anche della catena economica. Cioè la ditta che affida gli appalti non è responsabile solidale di quello che succede nella catena degli appalti e questo è quello che purtroppo determina quello che è successo ieri, perché quei lavoratori e quei cantieri, non nello specifico solo quelli di essi lunghi ovviamente, che lavorano in tempi ristrettissimi e che lavorano spesso a cottimo, lavoratori che non sanno nemmeno di quale azienda sono dipendenti spesso, a chi fanno riferimento, come capocantiere figurarsi al responsabile della sicurezza. Determinano situazioni ovviamente di fragilità da questo punto di vista, sia dal punto di vista dell'informazione, come sempre ho detto, e anche dal punto di vista della tutela e della consapevolezza del rischio, che sono i due fattori più determinanti negli infortuni. E poi c'è un altro tema che lega quanto stava dicendo, sia quello della migrazione e il lavoro, perché poi dietro ad ogni numero c'è una storia, c'è una persona, c'è chiaramente un racconto di se stessi e se si va a leggere nazionalità, sono per esempio fra le vittime un uomo di origine tunisine, un altro uomo di origine marocchine, ecco rispetto a questo si apre anche un altro dibattito, un'altra riflessione su quelli che appunto sono i migranti che vengono qua per trovarsi una nuova vita, un nuovo futuro e poi si trovano invece sotto delle macerie di un lavoro, come diceva lei, non solo precario ma a volte anche irregolare, spesso, troppe volte irregolare. Emma, se parliamo dal presupposto, come giustamente dicevi, che la precarietà è già una condizione di fragilità anche dal punto di vista della sicurezza, non solo dal punto di vista del salario, della previdenza, ma anche del ricatto occupazionale. È chiaro che un precario è più ricattabile e andrà a lavorare in condizioni ovviamente di meno tutela rispetto a un tipo di lavoro garantito e controllato. In questo spazio i migranti sono ulteriormente un soggetto debole, perché ovviamente hanno la necessità di lavorare per riuscire a portare un piatto di pasta a casa la sera e quindi ovviamente spesso hanno un tetto sulla testa, hanno una necessità ulteriore e quindi ovviamente quello che succede soprattutto nelle catene dei subaffatti dove il lavoro viene schiacciato sia dal punto di vista dei diritti sia dal punto di vista delle pache, questo succede nei settori come l'edilizia, come l'agricoltura, come nella logistica se non guarda caso i tre settori dove l'incidenza degli infortuni anche mortali è la più alta. Non è un caso. Assolutamente, non è un caso. E proprio questa mattina Gianni, tra le tante dichiarazioni che ha fatto, ha detto che vuole far entrare appena a titolo nel codice penale il concetto dell'omicidio sul lavoro. Ecco, cosa rispondi al riguardo? Penso che sia assolutamente giusto, è una cosa che noi stiamo dicendo da tempo, tra l'altro la CGL si è schierata da questo punto di vista da tempo e ha fatto anche una proposta di legge non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Si dichiarerà parte civile nel processo rispetto a questo gravissimo infortunio che ancora non sappiamo neanche misurare quanto sia grave e quindi credo che sia un indirizzo assolutamente condivisibile. La nostra organizzazione insieme alla Will ieri ha proclamato due ore di sciopero a fine turno, ha fatto un presidio sotto la prefettura. ci sono stati scioperi spontanei in giro per la regione in varie aziende, sta a proclamato uno sciopero generale nazionale per almeno due categorie dell'industria, la metalmeccanica e l'edilizia per mercoledì prossimo e probabilmente ci sarà una manifestazione regionale. credo che bisogna fermarsi, bisogna chiedere davvero che la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia e diventi prioritaria da qui in avanti al nostro paese, a partire come sempre sostenuto dalla formazione nei luoghi di studio, perché i nostri ragazzi e le nostre ragazze che stanno studiando e che saranno i futuri lavoratori e lavoratrici, imprenditori e imprenditrici devono crescere con la cultura della sicurezza, da lì si parte, perché la sicurezza non è solo un investimento a tutela delle vite umane e della qualità del lavoro, ma è un investimento anche per le imprese, cosa che invece le imprese spesso non capisco. Un'ultima domanda, chiaramente i cantieri sono presenti anche nel nostro territorio, ce ne saranno anche altri e ce ne sono tuttora in provincia di Sena, c'è anche tra l'altro un cantiere Selunga a poca distanza da dove siamo anche noi adesso, perché tuttora è in corso la costruzione del nuovo supermercato che appunto prenderà parte fra poco, sarà attivo fra poco nel nostro territorio. Quindi da domani o meglio, da oggi, da CGL Siena, cosa ha intenzione di fare anche per prevenire e per evitare poi che accadano, nel limite del possibile, perché chiaramente immagino che non si può parare tutto, però cosa ha intenzione di fare anche sul nostro territorio? No, noi continuiamo a fare quello che facciamo tutti i giorni, soprattutto sui cantieri. La filiera CGL nel cantiere Selunga, tanto per rimanere in tema, è da quando è cominciato quel cantiere, che la filiera CGL di Siena sta dentro quel cantiere, a tutela di quei lavoratori, tra l'altro ha contribuito anche con le proprie segnalazioni a rimuovere uno degli appalti, dei subappalti di quel cantiere, perché i lavoratori non si erano iscritti alla Cassa di Redi Siena, come dovrebbe essere per tutte le aziende che operano sul territorio, e continueremo a presidiare quel cantiere, come facciamo tutti i giorni in tutti i cantieri della provincia, in giro per il nostro territorio, e nei cantieri soprattutto, nei cantieri come quello, dove si lavora con margini temporali molto ristretti, con forti penali se non si finiscono i lavori in quei tempi, ovviamente le antenne sono ancora più dritte, e soprattutto nei cantieri come quello, dove c'è poca propensione alla collaborazione verso le organizzazioni sindacali, e quindi è ancora più difficile, ma dove ci sono situazioni di questo tipo, ci piace ancora di più riuscire a intervenire, perché dove non ti fanno entrare, o ti fanno entrare con questa difficoltà, vuol dire che le cose non sono proprio trasparenti. Grazie, grazie a Fabio Seggiani per essere stato in nostra compagnia, grazie mille. Grazie a voi dell'invito, come sempre. E ci guardiamo sempre un servizio attinente a quanto accaduto, alla tragedia di ieri, perché è stato lutto regionale oggi, e non solo, si è svolto anche a Siena un minuto di silenzio negli uffici comunali. Ci guardiamo il servizio di Lorenzo Agnelli e poi torniamo con una seconda parte, cambiando anche ospite. Anche Siena, alle ore 10 di questo triste 17 febbraio, si ferma e rispetta il minuto di silenzio negli uffici comunali di Palazzo Pubblico e Palazzo Berlinghieri. Un simbolico quanto importante atto dovuto per stringersi intorno alle famiglie delle vittime della tragedia che ha coinvolto il crollo del cantiere Selunga nella zona di Via Mariti a Firenze. Siena ha voluto anche esporre da Palazzo Pubblico la bandiera della balzana del comune a mezza asta e listata a lutto. Un gesto di cordoglio e di vicinanza per la città di Siena che si aggiunge a quello del mondo dello sport. La Federazione Italiana Gioco Calcio e la Lega Calcio infatti hanno preso la decisione di onorare con un minuto di silenzio le vittime dell'incidente durante tutto il fine settimana sportivo. Così come la Federazione Italiana Pallavolo ha deciso di disporre un minuto di silenzio prima dell'inizio di tutte le gare di volley che si disputeranno in Toscana nelle giornate di oggi e di domani in memoria delle vittime causate dal tragico incidente avvenuto ieri. Sport, istituzioni, politica e associazioni tutti insieme per questa giornata di lutto regionale disposto dal governatore toscano Eugenio Giani. Minuti di silenzio rispettati in ogni luogo, dalle piazze agli stadi, un fermarsi a riflettere su quanto è accaduto, stengendosi nel dolore per le vittime e sensibilizzando l'opinione pubblica e tutte le autorità competenti sull'urgenza della sicurezza sul lavoro. Mentre notte e giorno sono andate avanti ininterrottamente e senza sosta le operazioni di ricerca per ritrovare i dispersi nel crollo. Seconda parte di Sette Giorni, cambiamo argomento, passiamo a parlare come al nostro solito, nella seconda parte parliamo di cultura e siamo in compagnia di Massimo Mazzini, Presidente Senagez, buonasera. Buonasera. Sono iniziati ormai da un mese i nuovi corsi, quindi partiamo subito dall'attualità. Intanto un primo bilancio di questi mesi e soprattutto le novità su questi primi corsi. Lieto di essere qui e di rispondere ai quesiti che tu e la città immagino attendiate. Intanto un aspetto positivo, importante, è aver rasserenato l'ambiente e aver portato di nuovo le persone a lavorare, a produrre serenamente invece di occuparsi delle problematiche sindacali o quant'altro. Per i corsi sono partiti da gennaio e stanno avendo successo. Perché? Perché sono i corsi propedeutici all'iscrizione al biennio e al triennio e quindi sono importanti averli attivati e pur essendo partiti in ritardo è stato un risultato importante per noi. Ecco, sono partiti da gennaio e lei in una prima intervista che ha lasciato ai nostri microfoni ha detto che il bilancio rosso ce lo dimenticheremo e vorremmo, quindi come suo primo obiettivo, realizzare un grande evento per celebrare il mezzo secolo di vita. Ecco, quindi chiedo a che punto siamo rispetto a questo. Ah, allora, nel frattempo però c'è stato un evento molto triste, la perdita di Franco Caroni, colui che ha ideato, che ha promosso questa grande accademia. E quindi al di là di eventi che abbiamo in programma di fare nell'estate jazzistica senese, un evento che stiamo progettando, un evento non stop, è una maratona di jazz da fare con allievi, docenti, persone che hanno conosciuto e sono diventate amiche di Franco e di Siena Jazz, che provengono dall'Italia e dal resto del mondo, una giornata intera. Come possibile location c'è l'orto dei Ptolomei, la contrada di Franco, la tartuca. Franco Caroni chiaramente che ha sconvolto la sua scomparsa tutta la città e anche noi ci siamo uniti al Cordoglio, rappresenta, ha rappresentato il Siena Jazz. Adesso si apre un ciclo, quello di Massimo Mazzini. Che identità vuole dare lei al Siena Jazz? O già sta dando? Allora, come in tutte le cose nella vita, si deve prima acquisire la conoscenza e poi programmare e ottenere risultati. Le confesso che non sono un esperto musicale, ma per quello c'è e ci sarà un direttore artistico. Io sono un accademico, uno che ha vissuto la sua vita in ambito universitario e come preside di facoltà e tante altre cose e come tale sono al servizio di Siena Jazz e nella città. E le idee sono tante, ma come lei ben sa, prima di tutto bisogna creare le condizioni per poter operare e quindi risanare da un punto di vista umano e finanziario l'Accademia. Cosa ha intenzione di fare a riguardo? Beh, alcuni traguardi sono già stati raggiunti e questo veramente... abbiamo anche dei sogni. Il primo atto che io ho fatto, il giorno che mi sono insediato, è firmare un progetto. Un progetto straordinario di Jazz, chiaramente, ma legato anche in parte all'opportunità di ristrutturare un bastione della fortezza, che per questa città sarebbe un grandissimo risultato. Questo è un grosso progetto, il cui risultato dovrebbe arrivare in queste settimane. E questo, se arrivasse un contributo del genere, ci permetterebbe di avere un respiro diverso, un obiettivo diverso e una programmazione ancora maggiore di quella che ci sforziamo di portare avanti. Ha in programma degli incontri con il primo cittadino? Ci sono già stati? Io non sono uno che va a bussare nel mio carattere quotidianamente alle porte dell'amministrazione. Confesso, e ne sono molto lieto, che l'amministrazione in questi mesi è stata avvicina molto a Siena Gezze, non solo per il contributo finanziario che è considerevole, insieme a tanti altri. Su questo aspetto tengo a precisare che, al di là di avere il nostro comune, la regione, ma il 70% dei finanziamenti Siena Gezze li acquisisce con le sue forze. E questo è l'aspetto più importante che mi inorgoglisce e mi fa ben sperare per il futuro. Senta, spesso si sente dire che il Siena Gezze è conosciuto da tutto il mondo e poco in casa. Lei che in questi mesi ha avuto a che fare in prima persona con la realtà del Siena Gezze, secondo lei è veramente come si dice oppure non è così? No, vorrei dire che non è così, ma io stesso sono una testimonianza che è così. Io ho conosciuto Siena Gezze ora, quando sono arrivato e ho visitato questa realtà, questa bellissima accademia, ma ne ho parlato quando ero l'esperto culturale scientifico in Polonia e quando orava, dopo una bellissima esibizione, seppe che ero senese, mi disse che era un docente di Siena Gezze, che amava la nostra città tantissimo. Ebbene, fu un'occasione di gioia per il sottoscritto e per realizzare adesso degli eventi grazie anche a questi docenti. Le faccio un esempio semplicissimo. Noi sentiamo nei mesi estivi parlare di umbriagezze, dove si fanno eventi gezzistici, ma lì si fanno eventi estivi. Noi siamo l'unica accademia che forma coloro che vanno in tutto il mondo. Ieri pomeriggio, posso continuare? Prego. Ieri pomeriggio, il mio modo di organizzare giornate piene, difficili, talvolta pesanti, è ascoltare tutti coloro che desiderano incontrarmi. Ieri pomeriggio ho incontrato il rappresentante degli studenti. Pensavo un giovanissimo, un uomo maturo che aveva fatto esperienze in India, a Mumbai, era stato, poi desiderava andare in Cina, ai tempi del Covid, fu lì di imbarcarsi e poi bloccato. E allora decise di andare in Messico. Ha insegnato, si è voluto specializzare, ha studiato il mondo e ha deciso di venire assieme a Gezz. Ecco, rispetto a questo, lei diceva l'Umbria Gezz, un evento conosciutissimo. Assolutamente, certo. Un evento che ormai, diciamo, oltre il nazionale, comunque un evento anche internazionale, che comunque raccoglie veramente protagonisti del Gezz e non solo. Ecco, e come diceva lei, noi esportiamo, quindi facciamo uscire dalla nostra città e dal Sena Gezz, poi protagonisti anche del panorama del Gezz internazionale. Ecco, quindi questo che cosa vuole sottoindendere? Che in realtà è meglio tenerseli dentro e fare appunto degli eventi grandi, oppure provare a fare qualcosa di grande per fare in modo di far conoscere anche coloro che poi sognano la Sena Gezz? Cosa stava intendendo prima? Allora, è chiaro che il Gezz è musica di nicchia rispetto alla musica classica o altre tipologie, alla musica leggera. Però devo dire che noi dobbiamo essere lieti e per questo che nelle contrade, cosa che faremo d'estate, nei bambini che abbiamo già iniziato a fare nelle scuole primarie alla Dupree, in altri luoghi vanno docenti di Gezz, iniziano dai bambini dai 3 ai 5 anni a fare all'ABC del Gezz, imparare con l'ascolto, il tatto e i genitori sono estremamente lieti perché vivendo questi primi mesi in questa nuova realtà. Abbiamo tra l'altro anche la Peter Pan Orchestra per i piccoli, iscritti a Siena Gezz, che inizia da... ma questi bambini che ho visto la settimana scorsa a uno, arrivare a Siena Gezz, piccolissimo, 3 anni e mezzo, e si è messo a realizzare qualcosa di assolutamente incredibile e chi inizia a quell'età poi diventerà un genio del Gezz. Marrava, Bollani, Fresu, tutti i grandi italiani e non solo, si sono formati a Siena Gezz. Ecco, al di là quindi di quello che stava dicendo adesso, sia anche degli incontri e magari organizzare anche qualcosa con le scuole, come appunto mi stava dicendo questa collaborazione è già iniziata, in realtà sono già iniziati anche degli eventi, ad esempio nella biblioteca di Siena Gezz, dove tra l'altro ha preso parte proprio lei. Ecco, sarà un primo evento che poi ne seguiranno anche altri rispetto a questo? Ci stiamo pensando, stiamo lavorando in questa direzione, ma la sua affermazione, parlando di biblioteca, mi porta alla mente un altro evento carino dell'ultimo mese. La nostra biblioteca contiene materiale cartaceo e discografico unico in Europa, che proviene da una donazione di Arrigo Polillo, milanese, uno dei grandi del Gezz, un manager che organizzava il Gezz a Sanremo dopo il festival e tanti altri festival del Gezz. Questo signore ha donato tutto a Siena Gezz. Il figlio, un grande fotografo, generoso anche gli, ha donato delle immagini che sono nei corridoi di Siena Gezz perché ha seguito il padre nelle tournée in tutto il mondo, quindi Armstrong, Fitzgerald e tutti i grandissimi del mondo del Gezz. Vuole aprire le porte, immagino, per far venire la città. Certo, esattamente. Questo è un modo. Quindi invito, grazie alla vostra emittente, i senesi che desiderano venire a conoscere Siena Gezz, in ogni momento a venire in fortezza e a conoscerci meglio. Senta, il tema invece più ostico, ossia quello del bilancio, ecco lei prima diceva c'è stato un evento più tragico, ossia la scomparsa di Franco Caroni e quindi di conseguenza chiaramente poi l'attenzione si è rivolta, immagino, anche su un passaggio che non è sempre facile quando poi succedono queste cose. Ecco, rispetto però a questo tema, sia rispetto al bilancio rosso che come obiettivo, e sarà dato proprio quello di dimenticarlo, a che punto è? Allora, alcuni risultati sono già stati conseguiti. Secondo alcuni, che sono le persone tecniche che si occupano di bilancio, ci stiamo camminando verso una strada, diciamo, meno irrosso. Meno ripida, meno complessa, meno difficile. Se poi avremmo il piacere, la fortuna, la gioia di avere questo bando per cui Siena Gezz ha spesa, ha creato, ha realizzato, allora cambierà tutto. Però da queste sue considerazioni mi viene a pensare, Siena Gezz ha la fortuna di avere nel suo seno del personale di assoluto livello. Lei consideri che l'unica università del Gezz in Italia, una delle cinque eccellenze musicali riconosciute dal Ministero, cinque, fino a pochi mesi fa, di cui tre in Toscana, due a Siena, Siena Gezz e Lachigiana, dovrebbero veramente andare alla grande. Ecco, un'ultima domanda e poi passiamo a quella che è la nostra terza parte, quindi lasciamo per un attimo la cultura per entrare in quelle che sono state le notizie più importanti della settimana. Quindi un'ultima domanda, abbiamo parlato di quella che sarà l'identità che vorrà dare lei al Siena Gezz, ma nei prossimi mesi, appunto, c'è questa situazione importante, ossia questo bando che potrebbe cambiare le sorti del Sena Gezz e non diciamo altro, ma al di là di questo cosa vuole fare lei? Abbiamo un evento per la giornata internazionale del Gezz, ripetere quello che lo scorso anno è stato un grandissimo successo, dalla parte dei fragili, dei deboli, un blind concert al Santa Maria della Scala e già siamo in fase avanzata, abbiamo un'artista cieca, tutti gli spettatori saranno coperti con gli occhi e sarà, io credo di viverlo per la prima volta, non c'era lo scorso anno, un evento veramente molto importante e carino. E poi abbiamo gli eventi estivi, arriva a Siena come di consueto il mondo del Gezz e ogni sera ci saranno i grandi del Gezz che suoneranno per la città, tutto gratuito. E quindi siete in corso di preparazione di quelli che saranno i prossimi eventi. Grazie, grazie a Massimo Mazzini per essere stato in nostra compagnia, grazie mille. Grazie a lei, è un piacere. E adesso ci guardiamo un po' di pubblicità e poi torniamo come di consueto per scoprire le notizie più importanti della settimana. Adesso è il momento di scoprire le notizie più importanti della settimana. Il PURL ha confermato tutti gli investimenti, quindi tutti i vari siti produttivi in Italia, si va avanti con gli investimenti, in parte anche Siena, una piccola parte, quindi sugli investimenti hanno confermato. Su altri aspetti ancora no, ci sono ancora luce ed ombre. Luce ed ombre in casa Whirlpool. C'è soddisfazione, come ha ribadito Giuseppe Cesarano di FimCisle, per la conferma degli investimenti da parte dell'azienda. Mi interessa la preoccupazione per la previsione a ribasso della produzione di volumi rispetto al 2023 che si è chiuso con 317 mila volumi prodotti. Il previsionale per il 2024 è però di 300 mila, come ha spiegato Daniela Miniero, Fion CGL Siena, che insieme a Cesarano ha poi espresso amarezza per la risposta negativa ricevuta dall'azienda alla richiesta di un ristorio economico per attenuare tutto ciò che in questi mesi hanno dovuto subire i lavoratori. Quello che noi avevamo previsto di chiedere, ed era una delle motivazioni per le quali avevamo chiesto questo incontro all'azienda, era soprattutto per chiedere a fronte di un uso abbastanza impattante di cassa integrazione dei ristori che anche l'anno scorso, riferito all'anno 2022, erano stati dati dalla Whirlpool. Invece a questa nostra richiesta, purtroppo, vuoi perché comunque la fusione ora è imminente, il 26 marzo si avvicina, c'è già un preparere positivo dell'antitrust britannico e quindi loro sono in uscita come gruppo maggioritario mantenendo poi in quella che sarà la new co un 25%, quindi abbastanza marginale in quello che sarà il nuovo gruppo, vuoi perché non ci sono, come loro hanno detto, le condizioni. Quest'anno, che i lavoratori hanno fatto un maggior numero di giornate di cassa integrazione, non è previsto nessun ristoro. Una storia che inizia nel 1976, quella di Radio Siena, l'emittente che da diversi decenni accompagna la vita dei sienissi con le selezioni musicali nuove storiche, con l'intrattenimento leggero, l'informazione, la cronaca, i programmi e l'approfondimento sportivo. Oggi, anche per Radio Siena, è un giorno di festa, un giorno che unisce tutte le radio del mondo che da quando suona la sveglia fino all'ora della buonanotte ci fanno ballare e cantare a squarciagola le nostre canzoni preferite, ci fanno ridere, riflettere, ci informano e ci uniscono una storia, quella della radio che inizia ben prima degli anni 70, gli anni del boom delle radio libere. La prima trasmissione radiofonica della storia è infatti andata in onda il 13 febbraio del 1946. Da quel giorno la radio ne ha fatta di strada e ha resistito a tutto, all'avvento della televisione, del web e delle app di musica in streaming, come ha ribadito il docente e giornalista Maurizio Boldrini. Qui come in Duni, che è stato probabilmente il più grande studioso della radio in Italia insieme ad Aldo Grasso. La radio è stata decisiva. Da quando nacque in Italia, nel 24 appunto, ogni volta è stata data per morte, è stato ritenuto un medium vecchio. Teniamo conto quando arrivò la televisione, non parliamo della rete, eccetera. In realtà, come afferma lo stesso Enrico Menduni, ma di questo sono convinto anch'io, questa battaglia tra oralità e scrittura, tra oralità e immagini non è mai venuta meno. Tant'è vero che anche i più moderni mezzi, pensiamo appunto al computer che stiamo usando, allo smartphone, ai cellulari, eccetera, in realtà tornano ad usare massicciamente la radio. Oppure c'è la televisione che fa radio, voi ne sapete qualcosa. Quindi la radio ha una storia che è destinata ancora a crescere, non solo attraverso i podcast e le mille forme che di volta in volta trova, ma anche attraverso il fatto che la voce, l'oralità, per di più c'è proprio il rischio che appiattendosi la capacità di scrittura delle nuovissime generazioni, la radio in un qualche modo torni ad essere essenziale. E d'altra parte... È la festa degli innamorati. Ogni anno, il 14 febbraio, si festeggia San Valentino, tra fiori, cioccolatini e parole d'amore. Una tradizione che affonda le sue radici in un lontano passato. San Valentino, festa degli innamorati, risale all'epoca romana, nel 496 d.C., quando l'allora papa Gelasio I pose fine a Lupercalia, le antichi riti pagani legate al dio della fertilità Luperco. La data era il 15 febbraio e i riti prevedevano festeggiamenti in contrasto con la morale dei cristiani. Così il papa decise di spostarla al giorno precedente, il 14 febbraio, dedicato a San Valentino, ponendo fine immagini e tradizioni non consone e facendolo diventare il giorno dedicato agli innamorati nel senso più puro e religioso. Per San Valentino si fa riferimento in particolare a due santi, il primo San Valentino di Terni, vescovo e martire cristiano, morto il 14 febbraio. Questo è considerato protettore degli innamorati che guidava verso il matrimonio. Si narra che avrebbe messo pace fra due giovani offrendo loro una rosa, simbolo ancora oggi di questa festa. Sul secondo San Valentino per alcuni si tratterebbe proprio dello stesso vescovo di Terni, per altri sarebbe un altro martire cristiano. Sarebbe stato giustiziato per aver celebrato il matrimonio tra una cristiana e un legionario romano che invece era pagano. San Valentino si ritrova anche in letteratura con Jeffrey Chosa che alla fine del 300 scrisse in onore delle nozze tra Riccardo II e Anna di Bohemia un poema in 700 versi dove per la prima volta San Valentino venne collegato alla figura di Cupido. Una storia quella di San Valentino che quindi si ricollega alla tradizione cristiana e che si ritrova in grandi opere di autori del passato ma che continua a sfidare tempo e spazio. L'innamorati di tutte le età amano trascorrere insieme questa giornata non solo con una cena a lume di candela. Per coloro che amano l'arte nel giorno più romantico dell'anno è infatti a Siena possibile trascorrere una giornata speciale al museo. Il Santa Maria della Scala offre un'opportunità unica di celebrare San Valentino immergendosi nella cultura. Nel giorno degli innamorati chiunque si presenti al museo in coppia ha la possibilità di visitare le mostre in corso ed il percorso museale pagando un solo ingresso. Il complesso museale ha inoltre esteso i suoi orari di apertura fino alle ore 20. Un'attività pensata dal museo per questa giornata speciale che ancora oggi sembra non sentire il peso del tempo che passa. È durata meno di 24 ore l'ipotesi tre pali nel 2025. Il palio straordinario non si farà, lo ha detto il sindaco di Siena Nicoletta Fabio, stroncando sul nascere la richiesta arrivata a Palazzo Pubblico da parte del Comitato Amici del Palio per l'organizzazione di un palio straordinario per i 700 anni dalla posa della prima pietra della Torre del Mangia. È un evento veramente importante che, come sapete, il Comitato Amici del Palio dal 1947 sta dietro alle tradizioni a tramandare e quindi si è deciso proprio questo per fare questa proposta. Ad addolcire il boccone amaro del Comitato Amici del Palio è stata la rassicurazione del primo cittadino che ha annunciato che le ricorrenze importanti saranno celebrate nei drappelloni. Questa ricorrenza non è un evento straordinario, ha affermato il sindaco Fabio. L'idea è quella di celebrare nel palio di luglio 2025 il simbolo per eccellenza della nostra città, ovvero la Torre del Mangia, per i 700 anni dalla posa della prima pietra, come giustamente ricordato dal Comitato Amici del Palio e nel palio di agosto i 500 anni dalla nascita dell'Accademia Senese e degli intronati. Sempre nel 2025, ha concluso il sindaco, stiamo valutando l'organizzazione di un concorso riservato ai senesi per l'individuazione dell'artista che dipingerà il drappellone del 2 luglio. Piazze pulite, o meglio, piazze vuote. Piazza Provenzano e Piazza San Domenico, dalle 8 di questa mattina, sono libere dalle auto. È l'effetto dell'operazione Piazze pulite dopo l'ordinanza emessa dal Comune di Siena per evitare la sosta selvaggia e tutelare il centro storico. L'amministrazione comunale, su proposta dell'assessore Enrico Tucci, ha voluto liberare dalle troppe auto alcune tra le piazze più suggestive della città. Di fronte alla Basilica, ogni giorno infatti venivano creati parcheggi di ogni tipo e soste prolungate degli NCC. Stessa storia in Piazza Provenzano, dove venivano parcheggiati auto al di fuori dei posti regolari. Adesso per i residenti in centro è iniziata dunque la ricerca di posti sostitutivi, ma l'amministrazione comunale è andata a loro incontro e per coloro che sono in possesso di regolare permesso ZTL residenti. Ci sono a disposizione 20 posti di sosta all'interno del parcheggio Stadio Fortezza e per i residenti in Provenzano ulteriori 20 posti di sosta oltre 30 già disponibili all'interno del parcheggio San Francesco. Godendo di questa bella giornata abbiamo fatto un giro per città, abbiamo visto Provenzano e San Domenico liberi dalle auto, la prima volta penso da qualche decennio. È una soddisfazione dell'amministrazione aver restituito la bellezza di queste piazze a residenti e ospiti come meritavano. Il provvedimento chiaramente può creare qualche piccolo problema ai residenti e a quali però è stata offerta la possibilità, con il violino del permesso in regola, di parcheggiare le parcheggi di struttura di Sigerico che sono stati convenzionati per 20 posti aggiuntivi a San Francesco e 20 posti che mai erano stati disponibili allo Stadio Fortezza. Questo provvedimento segnala ancora una volta che l'amministrazione si muove nel solco di un'idea di città più pulita, più ordinata, più vivibile e fruibile da residenti ed ospiti. L'Università per stranieri di Siena nasce perché gli italiani diventino stranieri, gli stranieri italiani. Nasce per lavorare, costruire multiculturalismo e plurilinguismo al servizio di una convivenza pacifica. Con queste parole il Rettore dell'Università per stranieri Tommaso Montanari anticipa i contenuti che verranno sviluppati lunedì mattina alle 11 quando nell'Aula Magna Virginia Woolf si terrà la celebrazione ed inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024. Tra gli ospiti anche la Ministra dell'Università e della ricerca, l'onorevole Anna Maria Bernini. Al centro dell'evento tanti temi, tutti di grande attualità. Parleremo di colonialismo e di decolonizzazione. Come si fa a costruire uno sguardo che non sia proprietario? Come si fa a dividere la conoscenza dal dominio? È la missione dell'Università per stranieri e quel giorno tutti insieme come comunità ricorderemo a noi stessi e a tutti gli altri quali sono gli strumenti, le vie giuste per costruire davvero una convivenza pacifica. Mai come in questi giorni pensiamo che sia vitale, necessario. E con questa carrellata di notizie è il momento di darvi appuntamento alla prossima settimana come di consiglio a partire dalle 21. Torniamo con una nuova puntata di 7 giorni. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Grazie per la visione!